Carlo Balelli e le squadre fotografiche militari nella Grande Guerra. Questo è il tema della mostra che verrà inaugurata sabato prossimo 23 maggio all'Exupim di Macerata grazie alla collaborazione di molti enti, tra i quali Regione, Comune, Accademia di Belle Arti, Istituto Storico della Resistenza e ANMIG. Quest'anno ricorre il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Carlo Balelli, mio padre, uno maggiore esponente della dinastia di tre fotografi che hanno operato a Macerata è stato anche fotografo di guerra in qualità di primo operatore di diverse squadre fotografiche. Ci ha lasciato un corpus fotografico di oltre 2000 pezzi depositato in forma conservato, in forma pubblica presso la Biblioteca Statale di Macerata e la Biblioteca Comunale di Macerata e in forma privata presso la famiglia. Quindi quale occasione maggiore, se non questa, di valorizzare e dare visibilità a un fondo così importante, unico nel suo genere per quanto riguarda il centro Italia e così esaustivo da un punto di vista artistico e documentario. Gli scatti esposti saranno circa 300 che verranno anche immortalati in un catalogo che sarà presentato durante i giorni della mostra, che ricordiamo andrà avanti fino al 28 giugno. Dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, non in Italia, ma dal 14, poiché Carlo Balelli era già arruolato nel Genio e nella sezione fotografica del Genio, quando ha compiuto rilevazioni di fortificazioni austriache e italiane, fino al 1919. Infine Emanuela ci racconta anche un fatto accaduto a suo padre, arruolato nel 1913, drammatico e curioso allo stesso tempo. Nel 1915 lo scoppio della guerra lo coglie oltre confine all'Uznitz, dove appunto compieva dei rilievi fotografici, si trovava in abiti borghesi e sotto falso nome. Quindi fu costretto ad un ritorno avventuroso in Italia attraverso il Gregnadulla, più di 2000 metri, ma arrivato in Italia non fu riconosciuto insomma come italiano, proprio perché aveva con sé anche tanto materiale fotografico fatto oltre confine. E solo l'ha telefonata, insomma il contatto con l'amico Pizzarello gli ha salvato la vita. Grazie.